accaresso il tabacco buon anno cari fratelli di pipa mezzo incubo anzi tre quarti di incubo è un po è passato perché vi racconto un po allo stato d'animo non è non è semplice anche se da una parte mi vergogno perché le dette lavori direbbero alberto quello che hai te è una cosa fastidiosa ma leggera c'è tanta gente che sta male questo è vero io lo so lo riconosco però purtroppo sono un fifone quindi non ci posso fare niente all'attesa allora intanto la prima batosta di quando il neurologo mi ha detto e andiamo a fare un interventino poi aspettare che ti chiamino per il pre ricovero poi il ricovero ti dice questa volta me l'ha detto se no di solito non lo dicono neanche cioè ti chiamano quando è ora di andare a fare l'intervento ma stavolta siccome per il ricovero l'ho fatto prima di natale mi avevano già detto dopo le vacanze 10 di gennaio ti ricoveri e così è stato quindi l'ho fatto è stato più fastidioso del solito c'è del solito intendo dire le volte precedenti non è stato così fastidioso come è stato questa volta mia pipetta c'è questa mai rotta me l'ho già detto fra l'altro attraverso il tabacco e se tende a spegnersi chiudo chiudendo tutto ossigeno che rimane lì dentro nel tiraggio si consuma e quindi ravviva la fiamma quindi sono tornato a casa sono stato tre giorni con tre giorni più o meno con il catetere una rottura di coglione mamma mia che falle non voglio lamentarmi però sono i morali a passiotti piedi purtroppo poi mi da un po' fastidio non riesco a riprendere in pieno la mia attività anche se diciamo lavoro a mezzo servizio vado in azienda un po' poi torno a casa in questo momento tra l'altro sono a casa molti di voi l'hanno già visto questo divano quando facciamo le le nostre dirette mi piacerebbe tanto farne proprio tante dato ho notato che non riesco neanche a parlare una volta ero più parlavo meglio con un italiano un pochino più pulito magari qualche volta colorato da qualche brutta parolaccia ma però parlavo adesso sono un po' no demotivato non sono demotivato sono un po' stanco un po' stanco anche di stare qui sono stanco perché io voglio di fare non voglio di stare così ma mi dà fastidio non ce la faccio ogni tre secondi devo andare in bagno non c'ho l'accendino carico quindi non criticatemi se ho un accendino diverso non avrei neanche bisogno ma per fare prima ho provato a cominciare a rispondere a tutti coloro che mi hanno lasciato un messaggio nei tre video precedenti perché io per tre video non sono andato a leggere niente non ho guardato nulla e ho cominciato questa mattina e devo dire la verità non ho parole non ho parole perché qualche volta mi spavento anche un pochino perché dico abbiamo creato un gruppo di persone un numero così elevato di persone che ha preso questa no come qualche cosa di chissà quanto complicato no è uno strumento di fumo del lento fumo il piacere di tenerle in mano di curarne il fornello accaressando il tabacco i tempi cambiano la frenesia la velocità di azione cambia e diventa tutto a rallentatore l'unica cosa che va bene è che va forte se avete con questa è la mente perché la pipa apre la mente fuma da dio allora io non avevo preso la commissario mai neanche la commissarietta in questa ultima in produzione prima di natale è successo che purtroppo la canna si è spezzata perché lavoriamo non spezzata si è crinata perché noi lavoriamo a dei dei regimi di spessori molto molto basse altrimenti non si riuscirebbe a fare determinate cose e così qualche volta l'handicap è che qualche cosa succeda quelle che una volta una volta si chiamavano per amici in qualche pipa anche quelle che vendono online da dai da ebay amazon qualcuno le vende fumate se trovate scritto per amici quelle pipa lì erano dico erano perché non le manchiamo più per amici ma chiaramente il problema è comunque lo stesso sono tutte quelle pipa che non creeranno alcun problema nella fumata perché sono fatte guardate radica anche questa ve l'ho già fatta già fatta vedere sarà sempre una buona fumata ma noi non possiamo farne nulla se non fumare per me stessi ma io non è che possa ogni pipa che si che ha un problemino me la devo fumare e allora qualcuno potrebbe farsi dei piccoli affari cioè avere una bella pipa eseguita bene con materiali di primissima qualità a un prezzo che praticamente copre appena appena la vera se c'è la placca cioè il pezzo di radica l'imboccatura e la lavorazione ma neanche è un recupero e niente più e così venivano marcate per amici e si tenevano nei cassetti si tenevano nei cassetti per quando qualcuno veniva a trovarci e diceva che voleva spendere poco perché si accostava in quel momento e quindi non voleva investire troppo nel fumare la pipa e questo era una cosa interessante molto interessante per un affare a tra l'altro ho ricevuto una mail molto molto bella di un amico amico ora di penna come dice lui dove mi racconta un po della sua storia come si è accostato la pipa ha cominciato andando a prendersi una pipa che forse di radica non era ma neanche di legno così dice lui io non l'ho vista non lo so ma posso intuire che questo possa essere accaduto su subito.it ma non si è fermato lì ha comperato delle pipe dicono rodate io le dico fumate e come sapete sono contrario non le comprerei mai a questo punto preferisco comprare una bella pipa da cesto che nel 90 per cento dei casi è sempre un'ottima pipa spendi poco è bella nuova e la tua addirittura qualcuno faceva dei cesti con delle pipe natura senza essere colorate ma neanche con la cera come facciamo noi la pipa natura e con la cera perché perché poi a casa a sua volta poteva chiaramente con colori naturali ad acqua perché non deve essere verniciata potevano colorarsela come meglio credevano e considero la pio e la cesto un ottimo investimento da poco per imparare ad accostarsi alla pipa no per imparare a fumare la pipa per accostarsi appunto alla pipa quindi gli ho risposto dicendo no ma non stare a prendere più più fumate poi tra l'altro c'è qualcuno che vuole fa dei presti vergognosi su delle prima veramente capisco che se qualcuno ha il piacere di collezionare dei pezzi ma non fumarli di prenderli sul mercato perché gli piace il modello quindi la casa che gli ha fatti questo è accettabile ci sta ma non vado a fumare vabbè ci sta tutto ognuno decide quello che vuole per quanto mi riguarda non lo farei anche perché preferirei farmela io la pipa caricarla con il tabacco che voglio fumarvela come voglio con i miei ritmi pulirla come voglio cioè io non la pulisco però vabbè quindi ognuno fa quello che ritiene più opportuno adesso la metto giù la riaccendo dopo vorrei affrontare un argomento perché proprio in questi giorni visto che stiamo lavorando abbiamo già cominciato prima di natale ma ora molti molti pezzi della mini boia stanno uscendo le stiamo spedendo e purtroppo qualcuno ha lamentato il fatto che la pipa fosse carbonata e non naturale quindi mi vedeva da dire naturale o carbonata che poi carbonata io non so perché dicono carbonata perché qui di carbone non c'è niente naturale o carbonata diciamo così o preparata preparata allora purtroppo dovremo pensare tra breve che una pipa con il fornello interno pulito e quindi non trattato deve costare almeno 10 15 euro di più forse anche 20 bisogna valutare i costi e offrire un miglior prezzo la pipa che è trattata all'interno che non fa differenza non c'è differenza proprio non esiste la differenza la si fa trattata perché può essere possono esserci dei carboncini quello sì che esteticamente spaventano nel nostro caso non dovrebbero spaventare perché le nostre biblie sono tutte garantite vita oppure perché durante la lavorazione si sono macchiate anzi vi mando delle immagini che vi possono far capire cosa può succedere all'interno del fornello e quindi ecco perché vanno trattate guardate visto naturale o trattata questa cosa come tanti altri piccoli argomenti che non so adesso ad elencare dovremmo fare un video nel video sono argomenti sciocchi ma veramente tanto sciocchi io non capisco mi piacerebbe sapere il perché di questa proprio esclusione dalla pipa trattata che per me è solo una sciocchezza ma una grossa sciocchezza per quanto mi riguarda poi altri cosa fanno io non lo so perché se ci mettono il carbone davvero all'interno io questo non lo posso dire quello che noi mettiamo qui dentro è un preparato colorato con i colori che vengono usati nei caseifici e i colori che vengono usati per i bambini e quindi possono essere messi in bocca eccetera eccetera con un trattamento nostro che facciamo particolare e non sto a dirvi la formuletta ma anche se sarebbe il segreto di purcinella ma non mi va me lo tengo per me e quindi una pipa trattata all'interno quando la carica e la fumi sarà in odore insapore e soprattutto non è tossico a tossico e quindi è a posto solo però che c'è questo modo di pensare addirittura ce le tornano perché qualcuno che torna perché no io ecco parlando della della mini p della mini boia cosa è successo che sia sia alfonso che aldo luisi mancusi cosa hanno fatto siccome gli è stata data la pipa per fare per fare il test ed era naturale dentro addirittura hanno esaltato il fatto che era naturale è giustamente chi l'ha vista dice io l'ho vista così così la voglio addirittura succede delle volte che anche sul non so sulla rusticatura facciamo un esempio c'ho questo pezzo no questa pipa è rusticata anche sopra c'è questo bordo è bella non è mica brutta però magari mi viene bella pulita nel top e allora lo lasciamo liscia la mandiamo a quello che ha scelto questa pipa e dice ma no ma non è come lo volevo io lo volevo come era nella fotografia rusticata sopra ma per noi era naturale far sì che se per caso la pipa è pulita la lasci naturale non la stai a rusticare quindi nascono queste stranezze però giustamente se uno ha visto la pipa che non era trattata la vuole non trattata se se l'avete trattata la prende come quella quella che è ora però la domanda che ribadisco ancora una volta ma mi sapete dire qual è la deviazione mentale che vi fa dire che c'è qualcosa che non funziona su una pipa che ha questo trattamento all'interno quando vi dico che è inodore e insapore e a tossico ma è normale che sia così cosa facciamo vi avveleniamo mica siamo dei deficienti però cosa significa questo significa che come avete visto all'interno vuoi perché assorbe vuoi perché si è sporcata delle volte va via delle volte non va via e non puoi lasciarla tutta sbaffata e rovinata vuoi anche perché ci sono dei carboni e quindi come già detto la percentuale di chiare come questa per esempio sarà 5 6 per cento le lisce scure saranno il 25 per cento il restante è tra sabbiato semi sabbiato semi rusticato e rusticato perché perché la radica ha purtroppo il problema di avere delle tare di avere dei carboncini e quando ci sono i carboncini guarda questo per esempio di ora che bella placca vedi qui questo qua o modifico adesso io ho preso di dei di fogli giusto per farvi vedere li vedete qui carboncini li secondo me dovrebbero essere accettati e allora calmierebbero il prezzo lo terrebbero basso invece no se noi ci puntualizziamo ci facciamo le pugnette su cose del genere cosa significa poiché io sono costretto a fare un trattamento all'interno della pipa minimo nel 50 per cento ma io secondo me di più non l'ho mai considerato perché non è stato per me non era una cosa importante ma oggi vedo che diventa importante perché qualcuno proprio si focalizza su questo elemento cosa dovrò fare devo dire la vuoi così benissimo costa di più la vuoi così costa di meno per forza ma come faccio se non non è non è facile come ho detto il mercato oggi è strano è difficile trovare la materia prima noi abbiamo non voglio dire da buttare via ne abbiamo tanta perché abbiamo sempre tenuto capitalizzato nella materia prima come se non dovessi mai morire nel senso che ogni volta che c'è da comprare qualcosa io lo prendo perché tanto lì lo userò lo userò ma oggi mi verrebbe da dire vista l'età o sapete che non è in pensione visti gli acciacchi uno potrebbe dire ma quando fino a quanto cazzo ci resti qui quindi tanto vale che vai più piano non so le nuove leve e questo è un altro grosso problema perché a me mi spegnerà probabilmente mi spegnerà perché io mi conosco so che carattere c'ho io se ho qualcosa da dare da trasferire mi esalto mi diventa una cosa bellissima adoro poter trasmettere qualcosa ma non perché io ho solo da da insegnare no c'ho anche da imparare però vista l'esperienza visto il bagaglio di anni che c'ho dietro le spalle è normale che a un giovane che non ha esperienza potrei dargli buoni elementi per migliorare se stesso e per trasformare la sua tra virgolette ingenuità e limpidezza leggermente un po più completa perché eccola trasferendogli la mia esperienza è vero che poi generazionalmente non ci si prende mai perché ci sono i saccenti a i giovani sono saccenti hanno tutt'ora la forza nell'energia non si affidano il capello bianco non è più visto come era una volta sinonimo di saggezza no è di vecchiaia di stupidità rimbambimento però siamo talmente rimbambiti che siamo ripartiti e qualcosa sta uscendo ve ne voglio far vedere perché qualche pezzo si sta terminando e questa volta vi faccio vedere un sacco di ovali perché erano le produzioni che abbiamo fatto prima di chiudere per natale se ne sono diverse ancora ne devono uscire poi dopo sono state trasformate lavorate o è naturale questa costa di più questa costa di meno perché trattata come al solito rimango affascinato da quello che esce dal laboratorio da quello che abbiamo pensato lavorati insieme corretto insieme durante le lavorazioni stringi la canna questo bocchino non va bene cambialo sai quante volte succede uno che non è attento a queste cose le bocchine così vabbè va fa culo la lasciamo così no la pipa deve avere delle proporzioni delle caratteristiche che tu vedi interessanti e gradevoli perché non è detto per altri potrebbe essere una stanozzata ma per me e poiché le pipe che facciamo le facciamo come in qualche modo dio le desidero sì sto dietro al mercato perché è ovvio che devo stare dietro al mercato tante volte mi vengono chieste delle cose che non farei mai ma perché per importante perché clienti importanti ma anche meno importanti noi facciamo anche guarda quella che abbiamo fatto per vecchietti valere vecchietti la reaching una pipa che fa cagare ma però la voleva l'hanno fatta lasciandovi fuori da questo e quindi non sapevo niente io l'ho vista quando era finita mamma mia che aveva brutta però dai si fa per fare la battuta oppure quella che avevo fatto vedere prima svasata all'interno queste sono lavorazioni che noi facevamo tanti tanti anni fa vedete questa anzi questa è stata anche una pipa di un dell'anno in passato questa carne un po più rossa ma ecco sono due cose ben diverse ma questo non vuol dire che una è meno elegante dell'altra secondo me sono belle entrambe sabbiatone come questo una bella sax oppure un polo come dicono no no è una sax punto ma che bel pezzo gigante qua ci fumi tre ore sei anche di più anche quattro leggerissima bilanciatissima e come se va a non essere orgoglioso di queste cose abbiamo raccolto su quello che avevamo in laboratorio ed ecco cosa viene fuori io direi che per essere alla fine dell'anno aver fatto tutto quello che dovevamo fare consegnato quello che dovevamo consegnare consegnato non avere più una pipa nel nei cassetti e poi tirare fuori questi pezzi secondo me non è risultato da poco da perfettina con bocchino bianco questi sono chicche secondo me sono chicche le adoro le adoro mamma mia quanto mi piace guarda che roba uno dice mamma mia ma che canna piccola no è proprio è la sua proporzione sta nelle mani che è una bellezza ma c'ha una leggerezza sta pipa diciamo siamo bravi o usiamo le materie prime buone e le lavoriamo bene secondo me siamo bravi tutto sappiamo scegliere la radica e vorrei vedere dopo 51 anni sappiamo lavorarla quando è il momento giusto sappiamo dargli un'impronta che secondo me qualche cosa di interessante ha pipa molto classiche molto semplici per cui questo insieme di elementi fa sì che la qualità diventi eccezionalmente buona questa è una dolce vita ecco vedi qui sopra abbiamo lasciata liscia perché era pulita ma non è facile non è facile per niente trovarle pulite comunque volevo solo dire grazie per tutte le persone che mi stanno vicino ma siete veramente in tanti volevo dire che sono orgoglioso di aver ricominciato anche se sono un po più stanco e un po demotivato uno dice cavolo cominci adesso l'anno e te sei stanco ma come ho detto prima io sono stanco perché devo essere motivato se non sono motivato mi stanco certo che ho una motivazione su vedere le belle cose su far felici con i clienti gli amici clienti di far felici gli importatori essere orgoglioso quando mi dicono ho ricevuto le pippe sono tutte fantastiche bello grazie sono contento e quindi a occhi chiusi mi fanno un ordine a occhi chiusi posso consegnarlo perché siamo meticolosi siamo attenti però un pochino demotivato perché mi piacerebbe avere qualche giovane vicino con il desiderio di prendere di partire anche se a causa di quello che accade cioè delle meteore illegali che producono pippe ti viene voglia di farti una domanda ma tu hai fatto una professione o sei stato un hobbista qualche miseria la risposta ci sarebbe ma non la dico no io sono stato professionista comunque non vi dico le motivazioni per le quali faccio questa differenziazione bene e come detto leggerete le mie risposte le darò spero che abbiate pazienza con me io purtroppo sono stato un po' preso e un pochino anche come dicevo prima un pochino così demotivato e quindi non mi sono accostato molto né all'email né ai messaggi su messenger whatsapp tutte quelle che sono e youtube anche quindi ma adesso piano piano riprendo ricordate quando dicevano che eravamo dei grattaradiche vedi dico voglio chiudere e poi non chiudo mai perché poi vi viene in mente un'altra cosa come si fa a definire questa pipa una radica grattata e adesso se voi vi guardate intorno anzi vi chiederei una cortesia ogni volta che trovate qualcosa che avete visto prodotta da noi come lavorazione e la vedete rifatta da qualcuno fatemelo vedere perché sono veramente curioso e tra l'altro anche orgoglioso perché se ci copiano vuol dire che abbiamo fatto bene l'eleganza gli sta persa lo vedete certo che con una pipa così non passi inosservato la cura del dettaglio oh tenete presente che qui non ci sono macchine che fanno queste cose questa è fatta totalmente a mano compresa la vera noi abbiamo una caratteristica che è importante ci rende diversi noi dalla A alla Z facciamo tutto in casa adesso qualcuno dirà i bocchini li prendi prestampati che non ci sono non è così il processo produttivo del bocchino è un'altra cosa secondo me sta pipa è fantastica oddio che scava bello ragazzi vi voglio bene scusate magari non volevo neanche partire a fare sto video poi alla fine parto non voglio più fermarmi porca miseria da solo non è facile sarebbe bello se avessi avuto davanti a me delle persone che andano a farmi le domande io parto da ruota libera non mi fermate più per fermarmi mi dovete spegnere e adesso però devo per forza farlo perché mi sembra di aver detto tutto non devo dire più nulla vi do un bacio un abbraccio vi ringrazio se volete che io affronti degli argomenti ma anche nei dettagli chiedetemelo io sono a vostra disposizione è solo che è un piacere per me mi piace parlare anche dei particolari come questo trattato o non trattato perché? perché è giusto che uno sappia che cosa accade nella fase di lavorazione di una pipa non bisogna essere in mala fede pensare chissà cosa è stato fatto ed ecco perché questa pipa ha l'interno pretrattato ve le ho fatte vedere sono stupidaggini alle volte le volte sono macchie che non vanno più via e te la consegno così dovremmo fare come abbiamo fatto tante volte ma l'ho detto milioni di volte per il mercato giapponese ogni ordine che viene non dobbiamo stare neanche a pensare tutte devono essere fatte trattate all'interno perché? perché così a me non nessuno si fa le domande e questo è quello che accade ma perché io vi devo trattare da coglioni? non siete coglioni non siamo coglioni e quindi diciamo le cose come stanno però se continua così vi dico onestamente che dovrò modificare i prezzi perché se non posso stare ogni volta cosa facciamo qui Alberto? gli diamo il nero o non gli diamo il nero qui in alcuni casi come quelli che avete visto per me certi carboni piccoli dovrebbero essere lasciati ma certe macchie non posso lasciarle però se le lascio poi la spedisco ah ma no c'è un carbone dentro io non lo volevo così allora come devo fare ragazzi? aiutateci a capire cosa dobbiamo fare io vi dico che trattata e no è solo una stronzata ma grossa però veramente per quanto mi riguarda perché so cosa faccio io e come lo tratto io all'interno poi quello che fanno gli altri io non lo so posso non veramente prendere il carbone da un camino o da una stufa io questo non lo so e non mi interesso io parlo di me ogni cosa che devo dire la devo dire sempre solo ed esclusivamente riferita a me perché non voglio mettermi in bocca delle parole che che non posso mettermi in bocca perché non essendo con gli altri io non lo posso sapere grazie ragazzi adesso speriamo lunedì prossimo di rientrare a tutti gli effetti che mi dà un po' fastidio ma bisogna che torno perché sennò sono qui a commiserarmi nel divano come uno sciocco in solitudine è triste ciao ragazzi mi dà un po' fastidio non ciò che mi dà un po' fastidio mi dà un po' fastidio mi dà un po' fastidio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.